devi dare un'occhiata qui applausavano gli intanghi oh raga sono qua pure attenzione corrente interrotta sempre loro robo sempre sono lato retto vai qui vai che esploso vai giù cura che fa il centro wow c'è una bella scorpacciata di robo che stiamo facendo da un mattino da un mattino giù io non vedevo loro che uccisse vogliamo fare una cosa che andiamo a estrarre guardate così ora vengo a non lì si attenzione stai entrando in un'area contaminata io praticamente ho la super è pure io stai uscendo dall'area contaminata adesso non ho messo il nome abbiamo ma abbiamo 3 rianime no matti tu c'hai la super del danno sì sì no lo so e abbiamo 3 rianime sì ma la metto io lo sfido si è quello vogliamo li attacchiamo noi a loro mentre salgo mentre salgono qua solo ma chi ha con un po le poste ma non non ma 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 non c'è giusto adesso li ascegliamo sulle di progetti fuoco fino all'ultimo uomo un grande gioia si si inizio estrazione carica no scoffa piena abbiamo l'obiettivo 30 secondi al completamento dell'estrazione è competente secondo me è competente sta su pitcha xbox andiamo un attimo a svuotare la scorta per matti che ce l'abbina si si intanto le case almeno sono riuscite riparti che riuscite oi no aspetta oh aiuto ci stanno guardando tutti quanti nel tranello che è Ale ci siamo oh ecco lì qua raga ecco lì qua dimmi dimmi questi hanno cambiato 7 raga sono convintissimo allora facciamo una cosa a questo qua Mattleycan91 siete pronti? no aspetta aspetta non ho ancora la stazione si dimmi quanta ce l'hai tranquilli metto la super della difesa però puntiamo a uno decidiamo a chi punta una granada a shock buono io ce l'ho si ok prendo quello col giubbino arancione ok va bene va bene non è tranquillo è da dirlo non ho visto rischio subito attenzione questo è incendiato questo è incendiato vai vai a me che è morto ok tipi c'è la cura ma è a te a sinistra ok bravissimi si ce l'hai presa l'hai presa fateli venire fateli avvicinare raga fateli avvicinare vediamo dove sta tip da quel lato attenzione non appartieni più alla divisione ora vai parte di intravenzione si si mettiamoci nel bicoletto mettiamoci nel bicoletto vai che va giù vai che va giù ok c'è la cura sui piedi ok mettiamoci nel bicoletto aspettiamo a Mary che torisciamo stanno arrivando si si falli venire falli venire si si tranquillo si la messa io già mi tengo le granate come chiamo le mp in mano appena mi la metto io la butto su così sto quasi i cattimo ci sono porca di quella puttana andiamo ad aiutare Amerigo che sto combattendo ok 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 vai gattera vai gattera ok ok andiamo da Matti ok Matti tu è a posto ok si si facciamoci questi mob un attimo si venite qua raga portiamoceli qua sotto venite venite tanto monetizziamo noi caccia lui devono venire loro da noi attenzione Matti l'immunizzante mettilo qua sopra vedi lo butti a pallonetto là sopra vedi che nell'angolo là bravi tu questa lana ok così non lo possiamo rompere quando entra vedi che c'è a due che viene io sono quattro si vai solo tu di a me metti una flash venga a terra qua vedi da là uno sulle scale a terra dove sto io così se entrano e buttano la torretta quelli qua la mettono la distruggo io poi la torretta che così è almeno aumenta la vita sono i mob di no ma si ok non si è almeno non si è almeno wow io 1.200 mannaccia volevo fare lo screen si si abbandono dell'area contaminata attenzione i rilevamenti indicano che l'area è contaminata va vai 2 c'è la cura a terra appena salite vai bravissimo guardi un squadrone perfetto la dnd non lo sa la dnd no eravamo nei rogue tu tieni un grado perchè già eravamo caccia all'uomo tu l'hai finita e hai ricominciato un'altra un'altra ah è vero dovresti avere 3 gradi dovresti avere vabbè avete visto com'è bravo matti con recliner viene da sotto la mia scuola grazie 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 no 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 cosa? no ho sempre giocato insieme io e mezzo sempre bello tu ah no quello è gnappo si gnappo gnappo si 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 eh è mattia mattia matti matti mattia barbieri sarei però non c'è il mio cognome c'è mattia matti matti si 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 no su facebook sono mattia matti matti proprio così ti mando l'amicizia tipo si si tranquillo si si tranquillo facciamoli scendere facciamoli scendere facciamoli scendere confermato stato traditore ah mi ha buttato in una granada shock oh ok cura terra qua non ha c'è uno overcure cura qua il centro oh ma mi hanno distrutto mi hanno distrutto no 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 niente no no è la loro l'ho distrutta io la loro raga facciamo una cosa saliamo fuori venite fuori che ce li facciamo salite 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 portateli qua e poi ci giriamo e li distruggiamo salite si salite salite raga vi copro io fateli salite fateli se li distruggiamo fuoco fuoco eccolo qua ok ok cura facciamoli ok ahah ho balletto ho balletto ah ahó uuuh jansi tto tto sport uuuh arco dioooooo DIO CARE ho che ciccione qua usi impastrano egoc easier si scendiamo di nuovo io la supercarica pure io io la volevo usare lo scudo però visto che stavano andando bene non lo fare sta ben utile che lo spregnano mai fatto bene il ciucciatore ma io vorrei sapere che c'è tutta non è fatto il firecrust ma cosa quando lo fa io non l'ho capito che non nessuno più lo usa soltanto perché perché parlano che una cosa non funziona più ma secondo sia salute a riesce a contrastarla ma nessuno si mette la resistenza al fuoco preferisce mettere saluto abilità sui pezzi capito non ha però io vedo che comunque si scioglgono a quanto c'è l'esistenza mi provare a vedere quanta l'esistenza c'hai può essere che forse ne è talmente tanta che poco alla percentuale non ti dà niente ecco l'iraga non lo uso ancora lo uso ancora lo studio ma io ho usato la situazione del canno si si vai vai ok fuoco a volontà pure il nodo ho usato lo scudo ok una a terra giù alle scale dietro 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 è morto a nannet si sono messo tutte le sue le hanno buttato io l'ho usato alla fine così ah ma c'è la miglia andiamo a finire un po' di secondi dai ok Dani hai aperto le casse di medikit qua perchè ne ho uno solo si ok uno sta qua e ne abbiamo due e un altro sta qua è il è il matti matti che ci protegge vai giù matti matti ma va che comunque fa anche danno cioè io mi accorgo il reclame ma io te l'ho sempre dito secondo te perchè lo usano fa danno io alcune volte gli unicontro uno li vinco si eh invece avrò un impulso cappato si 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 dopo cappato seriamente ma infatti se mi date un secondo voglio mettere un attimo una mod di danni critici perchè ce l'ho probabilità sul mipel invece lo tolgo probabilità e metto danni critici no e vabbè quando gioco con te metto il danno critico quando gioco con uno che c'ha l'impulso a base metto roba grido eh f***e io adesso come adesso non ho niente vediamo anche noi vabbè vabbè raga comunque ci possiamo restare fermi quando ci abbiamo tutti i medici eccoci recuperiamo le super all'interno delle munizioni si 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 io appena c'è no no le casse viola già sono pieno le casse viola già sono pieno è un pezzo definitivo sta arrivando eh prendiamoli prendiamoli qui fai che sono infocati occhio eh occhio eh venite più dietro venite più dietro che li buttiamo ah occhio no vieto che cagano il cazzo pura terra sono loro raga sono sempre loro allora se mi date un secondo a mary non riesce a stunnare quella cosa buona corto vai andiamo ora a fuoco fuoco a volontà gli ho stunnata vai è l'unico guardate la altru, guardate la 2 guardate la città guardate il guardate la 5 guardate la 5 che Diggio lo mati, Dio cooooneeeeee o comunque averla su per così spesso è una figata Eh si, è illegale comunque eh, tienilo presente Eh io ho tutto abile e talentoso, determinato, abile e talentoso Eh si, abbiamo setemila talenti attivi quando... Ragazzi questa clip quando la fisco la salvo, è di proprio quattro viste quattro Così nessuno tiene da dire che è un bello sconto Ah si si no, lo faccio quando... Oggi quando siamo usciti in metropolitana, abbiamo fatto già quattro viste Ah si, hanno acchiappato un po' di palle per il loro pezzo Ma per esempio adesso è stato un po' più difficile perché ci siamo buttati un po' caproni Però, eh, perché hanno messo tre torrette del fuoco a terra Io ho finito le... Tutti sezzo, hanno messo prima le palline a molle torrette del fuoco Sì, hanno capito che... Sì 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 Eh, andiamo Ci sono i mobi un po' insuburi, non sbaglio Sì 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 Allora penso che almeno 6-7 volte l'abbiamo... 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 Almeno... L'abbiamo... L'abbiamo...